No, questo deve essere ricevuto domani! Prioritaria chi mente? Prioritaria chi mente? Prioritaria chi mente? Naturalmente? Papà, io non capisco. Perché nessuno vuole mai parlare del Grinch? Eh, voi bambini con questo Grinch! Vedi, Cindy, il Grinch è un non so chi, che... In effetti non è un non so chi, è più un... Un che? Esatto, tesoro! E lui è un che strano che non ha mai il Natale! Dà un'occhiata alla sua casella postale, cara! Neanche un biglietto d'auguri, né arrivato, né spedito! Mai! Ma perché? Ehi, Lou! Dov'è la mia posta, Lou? Lou, la posta che è mia, l'hai data a lui! Ma che domina? Torna subito! C'è un problema! Va bene, cerchiamo di stare allegri, si stiamo tutto, ragazzi! Ci metteranno anni per rimettere le cose a posto! Ecco, quello che è tuo va a lei e quello che è suo, chissà, ci va! E per tutti gli altri... Cartella, tasse, cartella, tasse, contravenzione, catena di Sant'Antonio, lettera minatoria, licenziamento, tasse, 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 tasse! Ehi, ti dispiace darmi una mano, tesoro, e portare queste nel retro, cara? Ma sta attenta a macchina smistatrice, capito? Sì! Salute, Max! Oh! Tu sei il... 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 il Grange! Aiuto! Aiuto! Funziona meglio di quanto pensassi! Aiutatemi! Qualcuno mi aiuti! Ehi! Max, andiamocene! Il nostro lavoro qui è finito! Aiuto! Aiutatemi! Aiuto! Quello non è un giochino da rosicchiare! Lascia! Vola! Spettila, Max! Apri quella bocca! Aiuto! Aiuto! Aiutatemi! Gietosomi di tutto il mondo, unitevi! Aiuto! 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 Redammela subito! Non lo sai che non si prendono le cose che non ti appartengono? Si può sapere che sei un animale a letto selvatico? No! Ah! Andiamocene! Grazie per avermi salvata! Salvata! È questo che credi che abbia voluto fare? Ah-ha! Sbagliato? Ho semplicemente notato che eri impacchettata male, mia cara! Sta ferma! Max, passami un fiocco! Puoi mettere qui il dito un secondo! C'è nessuno! C'è nessuno! Aio! Cindy? Papà! Papino! Papà! Ma che zia! Che tesoro? Cindy! Non sai, è stato splendido! Ti sei messa a fare i pacchettini di Natale, non dirmi tesora come sono fiero di te! Oh! Beh! Ecco cosa sono le chifeste! La dolce Cindy piccolina appariva molto mesta. Il dilemma nella testa batte come una tempesta. Se il Grinch è così spietato, allora perché mi ha salvato? Forse tanto cattivo non è. Vieni, torniamo a casa. Chissà, forse non lo è.